No al progetto così com'è del raddoppio della ferrovia Roma-Pescara per 6 miliardi di euro per poter risparmiare all'incirca un'ora del tempo di percorrenza che ora è di tre ore e mezzo. Il sindaco di San Giovanni Teatino, come altri suoi omologhi, si dice contrario a tal'iniziativa così com'è che provocherebbe problemi in pieno centro e la demolizione di alcuni manufatti, contrari non nella finalità del raddoppio ma nei modi, tanto che, spiega Di Clemente, per il progetto così com'è è stata richiesta nuovamente la valutazione di impatto ambientale. La prossima settimana ci sarà un tavolo con i comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Manopello e Scafe e gli altri centri interessati. Allora, qui da noi, così come nei comuni limitri, in tutti i comuni che sono attraversati da questa ferrovia, bella ferrovia, cosa utile ma che sta diventando un po' un trauma. È un trauma perché con questo raddoppio, così come da progetto presentato, il paese verrà tagliato in due ma verrà nel suo tempo schiacciato perché è impossibile prevedere oggi e avere domani una ferrovia raddoppiata diciamo in mezzo alla città, tra le case, cioè un qualcosa di insostenibile. Il progetto è partito già da lontano. Loro da anni fa vorrebbero come ferrovia fare un sottopasso, cosa che sarebbe negativa anche quello. Poi è uscito fuori questo progetto di oggi che è altrettanto negativo, noi l'abbiamo contestato dall'inizio. Ci sono anche comitati di cittadini proprio contro questo tipo di lavoro e così come noi, che sono anni ormai che lottiamo, ma negli ultimi giorni siamo stati proprio schiacciati da questa loro decisione che per fortuna è stato rigettato anche dal governo. non ci è stato rigettato perché è un progetto che a quando pare anche loro hanno capito che è un progetto insostenibile. Quindi noi chiediamo, così come altri comuni, di modificare questo progetto, di ricominciare da capo, rivalutare quelle che sono veramente le cose utili per il paese e non la rovina. Sindaco, ci sarà un tavolo tra i comuni interessati? Sì, da giorni che ci sentiamo, stamattina ho avuto il piacere di sentire De Luca di Manopello e Iezi del Comune di Chieti per cercare di trovare una data utile e lo stiamo raggiungendo tra lunedì e martedì questa data per poter sincronizzare, per fare un discorso di sinergia per affrontare questo serio problema.